ultimi acquisti e novità allora ragazzi vi dico già che oggi sono le otto e mezza quindi sono ancora in coma e siamo qui domenica 21 luglio a fare il video un video velocemente di ultimi acquisti e novità intanto vi dico le novità ho sempre il naso chiuso wow che novità e domani 22 e finisce il contest il contest scusate e accetto video fino a mezzogiorno di domani e basta insomma se volete partecipate sennò niente e gli ultimi acquisti sono ken 6 e mesi spider mac 5996 597 e rao rao come cazzo si pronuncia il conquistatore del cielo veramente sempre della serie di ken perché sarebbe beh non faccio spoiler se non avete letto non faccio spoiler quindi se non volete spoiler sulla storia di ken e se proprio non la sapete aspettate a comprarlo se no viene fuori un casino ci aspettate almeno non so il decimo volume sì circa io sapendo già un po la storia perché me lo ricordavo anche dall'anime quando esisteva ancora 7 gold quando lo facevano su 7 gold allora me lo ricordo ancora allora e basta ragazzi scusate per i video mini mini era solo per dire che il contest domani finirà per far vedere gli ultimi acquisti e basta grazie delle visioni di tutti gli altri video di tutte le altre serie spero di cominciare di prima possibile le serie dei giochi flash e giochi horror su che devo capire come fare con quel cazzo di webcam perché si vedeva da schifo e basta alla prossima ciao